Per seguire il TG di Lucanette Web TV, i nostri affezionati telespettatori ci trovano sulle principali piattaforme social, dunque soprattutto su Facebook e Instagram. Un cordiale saluto a tutti, oggi parleremo di ambiente politica e cultura. Partiamo subito con una scheda della nostra Rosa Maria Mollica che analizza il difficile momento che sta vivendo la giunta Bardi nell'affrontare la delicata questione delle estrazioni petrolifere in Basilicata. Ascoltiamo. 230 milioni di euro, il 60% in più rispetto ai precedenti accordi per quanto riguarda il valore delle compensazioni ambientali. Questo è l'accordo che il governo Bardi ha raggiunto con Total per le estrazioni petrolifere in Val d'Agri. Ancora però nulla di tutto ciò è stato messo nero su bianco. Un incremento non indifferente per un ambito non ancora del tutto definito, il cosiddetto non-oil. Total infatti si impegnerebbe ad investire risorse in progetti di riconversione energetica, nel recupero di aree abbandonate, nelle produzioni sostenibili locali e nelle bioplastiche. Tanti interventi quindi ancora tutti da definire però. Durante la seduta del Consiglio regionale dedicata alle estrazioni di Eni, il generale Bardi ha evidenziato l'importanza di aver riaperto gli accordi datati 2016 che sembravano ormai blindati fino al 2026. Contro l'intervento di Bardi in Consiglio regionale sono intervenuti i consiglieri pentastellati Gino Giorgetti, Gianni Leggeri e Gianni Perrino, che avevano proposto la chiusura del centro Oli di Vigiano che però non era stata presa in considerazione e affermano Bardi ha proposto la sua visione fatta di milioni di euro e progetti futuri che non hanno nessun valore concreto nell'immediato. Bene, cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica e lo facciamo con il già senatore della Repubblica, giornalista e politico Piero Di Siena che analizza la delicata situazione che attraversa il centro-sinistra in Basilicata. Sentiamo. Mi pare che come in Italia, anche in Basilicata, il PD come del resto le altre forze politiche attuali sono attraverso un processo di trasformazione, scissione, nel senso che è finita un'epoca e quindi sono in qualche modo anche finiti i partiti che l'hanno caratterizzata. C'è un reale rischio di una deriva populista in Italia? Beh, questo mi pare abbastanza evidente, ma la cosa non riguarda solo l'Italia, riguarda il mondo e riguarda un passaggio cruciale dei rapporti sociali, delle forme di mentalità che si stanno organizzando. Siamo cioè dentro una grande trasformazione, siamo ad un passaggio di crisi organica per tanti aspetti uguali a quello avvenuto all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Delle responsabilità certo che ci sono, nel senso che se siamo arrivati al suo epilogo qualche ragione ci sarà, ma io credo che più sulle responsabilità soggettive dobbiamo scappare intorno ai processi reali e alla fine di una relazione tra politica e società che si è consumata nel corso di questi anni in Basilicata come nel resto del Paese. Bene, e adesso un'intervista con uno studente di Melfi, lui si chiama Francesco D'Amato e ci parla delle sue scelte per il futuro dopo l'Istituto Gasparrini, la sua scelta universitaria. Sentiamo i sogni dei nostri ragazzi. Allora, ho terminato il percorso di studi al Gasparrini, è stato un percorso di studi molto intenso, però sono rimasto contento e credo di essere uscito preparato da questa scuola. Ora comincerò il percorso di studi presso la Pontificio Università Lateranense a Roma, farò il corso di studi di giurisprudenza. È una scelta importante, come mai? È una scelta importante perché da questa università, una volta usciti, si avranno molti sbocchi lavorativi. Infatti entro cinque anni bisogna almeno conoscere due lingue. Io ho scelto l'inglese e il francese e poi abbiamo i corsi di latino e i corsi della patente europea del computer. Giurisprudenza, il tuo sogno nel cassetto? L'avvocatura? Il mio sogno nel cassetto è o diventare magistrato oppure intraprendere la carriera diplomatica, la devo ancora scegliere bene. Per chiudere, un consiglio che ti senti di dare a degli studenti che come te cinque anni fa qui erano matricole, ai ragazzi di prima, che cosa consigli? Come si può vivere bene questa scuola, questa giornata? Allora, questa scuola dà molte possibilità ai studenti, anche gratuite. Io consiglio alle nuove matricole di intraprendere tutti i percorsi come il Cambridge o come i corsi in francese perché servono anche per l'università. Molte università oramai le richiedono proprio e l'università invece costano, qui invece c'è la possibilità di farle anche gratis. In bocca al lupo a Francesco D'Amato, io vi lascio, vi ricordo che tra non molto potrete seguire sul nostro canale un approfondimento sulla delicata questione invece della soppressione del Tribunale di Melfi che potrebbe avere uno spiraglio di riapertura. Lo faremo, ne parleremo con Dino Diciommo, già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Melfi. Io invece mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima edizione del nostro Tg, Lucanet Web TV. Ve lo ricordo, principali piattaforme social su Facebook e Instagram. A risentirci!